Ciao a tutti! Sono Belinda Lucigi, da Italia. Oggi, come brand ambassador per i Novitì di Sugar Walks, vorrei mostrarvi come fare un tender teddy bear con il nostro Suga Shaper Soft. Siamo pronti? Iniziamo! Iniziamo dal corpo, i piedi e l'armi del teddy bear. Potremmo iniziare a lavorare con il Suga Shaper giallo. Ha due dimensioni diversi, più piccoli e più piccoli. In questo caso, sto usando il piccolo cuore del mio Suga Shaper e faccio un sasso sull'armi. Ora, sto spingendo il Suga Shaper per fare il sasso. In questo modo. I nostri strumenti sono creati e disegnati specificamente per gli arti di sugar. Sono un strumenti eccellente per usare con fondant, marzipan, chocolate, modellino di zucchero, e la pasta di zucchero. Per l'armi, sto iniziando con il Suga Shaper giallo, per smettare questa parte. con questo strumento è molto facile e giusto. Poi, mettiamo un piccolo pezzo di zucchero di zucchero e poi faccio ancora il sasso con il sasso giallo. Ok. Bene. È molto giusto. Ora, cominciamo con il cuore. Adesso abbiamo il muzzle, due ears. Nel muzzle, mariamo la linea del nido, un grande nido, con il sasso giallo. con il sasso giallo. Allora, mettiamo il muzzle sul cuore. e puliamo la parte con il sasso giallo, come questo. e puliamo la parte con il sasso giallo, Allora, prendiamo la parte con il sasso giallo. adesseremo il sasso giallo. Questo sasso giallo è un venator, con le due grandi sizezioni. Allora, Markando una linea sotto il naso. Poi, con il blu lato, ma con le altre strade, faremo il cuore. In questo modo. Il formaggio giallo per fare il filo, di nuovo, sul cuore. E due piccoli occhi, con il formaggio blu lato. Ora, il filo. Con l'orange, faremo un circolo. Pugnando sotto per formare un slot perfetto per il mio piccolo insert circolare brano. Ora, faremo il colore. Ora, faremo il colore. Ora, prepariamo il colore. Ora, prepariamo le scarpe. and the hat for our teddy bear using the pink shaper to sign the details and the texture. Our tools are created and designed specifically for sculpting, shaping, texturing and modeling. Now polishing the work, finalizing all the details. This way the work will be very clean. Our set includes 6 tools of 6 different colors, each with 2 different heads, ergonomic, made of excellent silicone, specific for food. Perfect for sugar hearts, perfect for modeling chocolate, perfect to work with the isomalt because they are resistant to high temperatures. And of course they have patent for food contact and can be put in the dishwasher. So, let's check the other items there. Okay you guys are quick answer. All the drugs are prepared. Bye you. Let's check it out. Grazie per la visione!